Avete un fiore all'occhiello nell'ambito delle motonavi, chiamiamola piroscopo, Piemonte, c'è previsto un grosso intervento con milioni per poterlo rimettere in sesto? Sì, è previsto un intervento molto importante, ma d'altra parte è anche un intervento di una manutenzione che ormai è necessaria. Andremo a sostituire le caldaie, per cui diciamo il cuore e il motore, ma i polmoni sono le caldaie del piroscafo, e assieme alle caldaie andremo anche a rivedere tutte le tubolature del vapore e gli impianti di bordo. È un impianto che richiederà attorno all'anno e mezzo, due anni di lavori, però è veramente un intervento necessario per poter continuare ad utilizzare questo gioiellino che è il Piemonte. Chiamiamolo gioiellino, anche perché devo dire che nelle giornate del FAI abbiamo avuto un successo veramente, da un certo punto inaspettato, ma che ci ha inorgoglito, perché siamo riusciti nel giro di sei ore di apertura a cantiere a superare le 1200 presenze. Abbiamo potuto mostrare sia il Piemonte, che è la parte di tradizione, di attaccamento al territorio, e l'atto pazio, che invece è la parte innovativa di navigazione ai laghi. Per cui questa commistione tra passato e futuro, anche l'affetto che hanno dimostrato i partecipanti alla giornata del FAI, ci sono stati ex dipendenti della navigazione, cittadini di Arona.